buongiorno ciao a tutti i ragazzi dal vostro ggg questo video lo uscirà domenica l'ho fatto l'ho fatto sabato ma uscirà domenica c'è un casino c'è un problema non è stata la cosa più furba il mondo a trovare il video mentre ero in f4 diciamo quindi qualcuno mi è ucciso quindi io direi con tutta la ragione del mondo di tornare a casa e niente dovevo attivare i trucchi questo vado a me lo give niente ci rivediamo quando l'ho trovato il villaggio niente ragazzi ho preso il villaggio ho trovato il buco dove ero andato ma non è che trovarlo ho trovato in compenso quest'altro villaggio niente e cominciamo tutto da capo sto qua mi sembra anche molto più ricco quindi pazienza anche non avevamo un granché però cavoletti ho sempre questi problemi io ora un po il punto di spawn sono molto furbo quindi faccio questi errori e niente quindi ci vediamo ciao 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 ciao